E' come ci sono i risultati e iniziamo subito Eeeh si Kirby Rai f***o Ragazzo ha seri problemi Non è vero tu hai seri problemi anali Se qualcuno Che cosa hai detto è brutto schiavo di merda ripeto Mi sei ficcato il termometro nel culo Mia parola dice sempre che ha qualche problema E poi è pericoloso ficcarsi il termometro nel culo Perché nel caso ti si rompe Esce tutto il mercurio E non è sborro Detto ciò continuiamo Si cantano questi qui Sono i nostri discorsi giornali No sono i discorsi di Claudio No è il pilato di Pazzer Ma perché mi avete fatto Prendere le acide No è il pugale Ma che cazzo Cosa cazzo devo fare Cosa devo fare Ma perché lanciano sto coso Perché in sé io Non c'erano le capite Non c'erano le cose Non c'erano le acide Ah ma è finito il gioco Ah quindi è già la fine del gioco Dove cazzo devo andare Sì ma io devo salvare Porco madonna Ma perché non è finito No Ha fatto fine Il riservio così Ora che c'è il Ecco il tyrant Si ovviamente la lava Non sconfigge un cazzo Perché mi avete fatto Prendere le acide Dove devo andare adesso Dove devo andare adesso Schiavo Dove devo andare di qua giusto Nell'ascensore Ma vuoi stare un po' zitto Nell'ascensore devo andare giusto Cioè in teoria devo andare lì E schiacciare di là Giusto Giusto se la matematica Non è un'opinione No dai Dove cazzo devo andare Eh Deve devo scusare Ce l'hai la chiave Non c'ho un cazzo io Ma scendi da sotto Vai dal tyrant Di nuovo No Devebbe morire Annette Dove cazzo devo andare Innanzitutto salvo O come fanno in America Di mandano la SWAT Ma magari Ale Lo dovevi fare in Claire A Quello del vaccino Secondo me Sai che nella B Hanno tagliato delle cose Sì anche la tua testa Hanno tagliato Sì stai zitto Ghiottinati Ghiottinati va Ma prova Senti non lo so Dove cazzo devo andare Deve devo fare una morte con Claire Ok Ma sì Ma il disco mo l'hai preso No Che succede Mami 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 Sta cagandoci Cioè porco dio Sta cagando pure Assomiglio al cazzo di Gollum Dio porco Ha cagato pure su sua madre Non volevo Non ma cagarti addosso Scusa Ho problemi intestinali Sherry Non ti preoccupare Può succedere a tutti Anche a me da bambina Mi è successo di cagare Su mia nonna Questo che cazzo è Più ganale Ah Finalmente la Master Kay Diamo Diamo Porco Porco PURCUNTIA NO! Il problema è che quando non la vedremo più Sherry oltre le corniciure Si sentiranno questi suoni di cagato Ma che capisce che si sta per mangiare? Ma quindi adesso dobbiamo partire già col treno o dobbiamo prendere la batteria? Come era qua? Figgi la prima misteri e poi avrai un'altra boss fight. Ma dove cazzo era già la... Ah, ok. Ho trovato il baule. Ottimo. Good job. Ho trovato pure un gioiello. C'è stamattina? Cos'è? Ah, questa è la chiave del lucchettino. Eh sì, riposo un attimo questo. Salviamo! Perché non si sa mai! Perché poi bestemmio se muoio e io non voglio sentire bestemmi in questa casa. Ok. Boh, direi che siamo armati fino al collo. non mi sembra che ti servono non devi andare lì devi uscire devi far parte del treno eh ma non c'è qua l'uscita dalla porta di uscire alla porta di uscire non c'è la porta a dove sei entrato in questo vado eh di fatti di qua mi chiamate cazzo è grande sto treno sto cazzo è schiavo sta cagando la bambina all'un piedi vedi non posso farlo partire ancora devi uscire ti serve spazio ti serve spazio nell'inventario e stai tranquillo che qualcosa da utilizzare ce l'ho oh e fagami sta porta hai visto? porco dio catura 5 minuti until detonation no ma c'è un altro baule lì ma perché cazzo non c'è niente te l'avevo detto che ti serviva spazio porco dio porco dio ma chi? usate tutti gli spray e poi lui pensa di prendere un bel rango si si non c'è un bel rango cucù ma non ha nascetto quelle incendiarie aahhhhhh ok ecco no dai non fare il game opera è moolte ehi ehi ma non si verrà si DAI NON VAI ma puoi sparare anzi che scappare ma se sta già in fuoco e tu si lembri come ho detto le acide contro questa non sono le acide Sì 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 No fammelo pelle hai fatto la schilata che schilata Sì 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 Questa scena è uguale al Tyrant di presenti di lui Sì 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 Quindi devo inserire ancora un oggettino Ah ma l'ho già inserito quindi chiediamo allora Hai messo i cosi? Hai premuto? Eh sì non mi fa più premere niente Può andare Può andare Il terreno è più forte di Birkin Sto stupido schiavo Hai finito di dirmi che sono uno schiavo? Sì Ricordati che il nazismo è stato proibito nel ventesimo secolo Ciò che cosa registriamo? Prendiamo questo argomento intanto Eh lo so Idee sul prossimo nuovo gameplay? Antonio aiutaci tu Silent Hill o Devil Within? No Devil Within? No per favore Silent Hill 2 che bellino Io non l'ho mai giocato Giocareò solo a Silent Hill 1 Scopera che la gente si parla No Ancora sta bambina è ferma così Ma che cazzo ne so Si è cagato al posto Vabbè faccio da colpevole infatti The Tunnel Gaze Ma no dove cazzo devo andare? Secondo me esplodi là dentro Ma anche per me No dove cazzo devo andare? Sarebbe spettacolare morirei Ricordandosi che dopo Ricordandosi che poi c'è la Portilla contro il Birkin e ancora c'è il timer Vaaa Non sa neanche lui come l'ha fatto Dang, bambino Die 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 In teoria dovrei avere ancora tempo per andare A prendermi degli spray Perché non si sa mai eh Cosa devi prendere? Lo sprite Eccolo a prendere tic... Invece 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 L'arra Invece 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 In modo raggiato Hai finito di stare lì ferma E aspettare che ti venga lo stimolo per cagare Claro, devo andare in bagno Leon, Leon, sali a bordo Muoviti, muoviti Treni tagliati in merda Il treno in arrivo a Roma, Fiumicino Roma, Fiumicino Next stop, Roma, Fiumicino Roma, Fiumicino Dove stiamo andando? Roma, Fiumicino Roma, Fiumicino Ma niente di che Roma, Fiumicino Roma, Fiumicino E non cagarmi pure il giubbotto Bambina di merda Vabbè ma la battaglia contro Birkin dovrebbe essere abbastanza facile Adesso anche io non si misce a scegliere a cagare per tutto il vagone Come si faceva la battaglia contro Birkin? Basta solo sparargli Sì, di nuovo Ma porco Minchia, si sono rinchiusi per cagare Madonna Madonna Cagoni di merda E lì o no? Si parlava solo di sesso E qua solo cagate Porco Dio Sì, ma dove cazzo stai? Che cazzo è? Un tentacolo? Il Kraken! Hai mangiato un po' troppo Grassone di merda! Ciao Che vagino gigante Che vagina gigante Vai Claudio, tutto buono Spara che se arriva al turbo Si ferma la spara Sta squirtando! No, adesso c'è in teoria No, adesso c'è Il treno in arrivo a Roma Fiumicino Roma Fiumicino C'è una vagina gigante fuori! Sì, Sherry C'è una vagina gigante Fai come se non l'avessi mai vista No, fanno da cagare Ecco Niente, scusa Leon Mi scappa da cagare Mi scappa da cagare Scusa Leon Sherry Ma che cazzo è che cazzo Dov'è la carta igienica? Sherry basta cagare Prende quel cazzo di bottone Scarica l'acqua Squirti con l'acqua Scarica Non è scusa Non è scusa Fai quei cinze Scusa Si riuscì Chi è riuscì ? Leon? Leon Qui era Oh mia, sono una merda ragazzina Correte! Mi scappo da cagare Claire! Guardate, sono una bomba bionetta che mi hanno incontrato Che cazzo? Che cazzo è sta puzza di merda? Eh, mi sa che me la sono fatta addosso Mi servono un paio di mutande nuove Cazzo di scegli di merda Che cazzo hai mangiato per canzo? Kebab Che puzza di merda di operazione Porco, neanche all'aria aperta si può stare Oh, siamo arrivati al rango Voglio vedere il rango Rango! Dove cazzo è il rango? RANGO! Perché? Porco Dio, cazzo 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 Ebbene, ci vediamo al prossimo gameplay Ebbene, ci vediamo sempre!